Bella a tutti ragazzi, sono Factor Mode, oggi sono qui per giocare su Vakant, uccisore confermata, giochiamo con il G36C, visto che le altre erano quasi finite tutte. Non so se avete sentito il nuovo aggiornamento che uscirà di Modern Warfare Masters, con nuove armi e nuovi contenuti. Soprattutto la cosa importantissima per lo sniper è le collateral, sono state sistemate praticamente le collateral, andranno ad uccidere subito nel primo colpo. Uccisione legata Il nostro UAP è operativo UAP nemico in polo Uccisione legata Il nostro UAP è operativo Uccisione confermata Uccisione legata Ah, c'era un camperone di dietro Dovevo immaginarlo UAP nemico in polo Siamo in vantaggio E mi ha deciso di non andare a farlo Il nostro UAP è operativo Non siamo più in vantaggio Rai d'aereo alleato in corso Siamo in vantaggio Uovi da ricognizione in attesa Siamo in vantaggio Rai d'aereo alleato in corso Uovi da ricognizione in attesa Il nostro UAP è operativo Cambio caricatore Elicottero alleato in arrivo Il nostro UAP è operativo UAP nemico in polo Uccisione confermata Missione legata Uccisione legata Il nostro UAP è operativo 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 Uccisione legata Uccisione confermata Rai d'aereo alleato in corso Uccisione confermata UAP nemico in polo Il nostro UAP è operativo Il nostro UAP è operativo Ovvio Solo con le flaggine sanno uccidere questi guai UAP nemico in polo Non ho fatto dubbio Rai d'aereo alleato in corso Guardalo 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 Cazzo tremendo Elicottero alleato in arrivo Il nostro UAP è operativo UAP nemico in polo Il nostro UAP è operativo Uccisione confermata Rai d'aereo alleato in corso Uccisione legata Uccisione confermata UAP nemico in polo UAP nemico in polo Uccisione legata Uccisione confermata UAP nemico in polo Uccisione confermata Uccisione confermata Il nostro UAP è operativo Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata Il nostro UAP è operativo Bene ragazzi vi saluto alla prossima Ora vado a giocare con gli altri 32-22 risultato finale Con 13 negate 8 confermate Uccisione confermata Annalse Annalse Annalse